Ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere ci ritroviamo qua insieme perché oggi inizieremo una nuova avventura signori Inizieremo Jack and Dexter The Precursor Legacy Vedete ho comprato il pacchetto completo di Jack 1, 2 e 3 e Jack X che non conosco ma va bene così Allora ragazzi Jack and Dexter è un gioco che secondo me non può mancare nel mio canale perché non l'ho mai potuto giocare bene Perché io non ho mai avuto la Playstation 2 e la Playstation 3, vi parlo tempo fa parlando E lo giocai soltanto a casa di un mio amico E vabbè niente po' po' di meno Quindi una volta che hanno messo la collection su PS4 ovviamente l'ho acquistata E c'è un è proprio Jack and Dexter Ho passato la vita cercando di dare risposte alle domande che mio padre e il padre di mio padre si erano posti inutilmente Chi erano i Precursor? Perché hanno creato i grandi monoliti che vediamo su tutto il pianeta? Come riuscivano a controllare l'eco, l'energia vitale del mondo? Qual era il loro obiettivo? E perché sono scomparsi? Ho chiesto alle piante ma non ricordavano Le piante hanno chiesto alle rocce ma neanche le rocce rammentavano Ebbè dire Le rocce riuscivano a ricordare Ogni goccia del mio sangue mi dice che tutte le risposte giacciono Sulle spalle di un giovane Ignaro del suo destino A cui non interessa la ricerca della verità E che rifiuta il mio consiglio E d'altra parte perché dovrebbe dare ascolto al vecchio Samos Io sono solo il maestro dell'eco verde Uno degli uomini più saggi del pianeta Purtroppo sembra che le risposte non nascano mai D'attente ricerche o da profondi ragionamenti No Proprio come molti dei misteri del fado Nascono semplicemente da un piccolo atto di disobbedienza Ehi, ascolta Jack Il vecchio verde ci aveva detto di non venire qui I filmati Quando parlano tutti e due Fanno morire Facevano morire Come dicevo io ci giocavo da un mio amico Perché lui aveva la Playstation 2 Quindi ogni giorno ero buttato a casa solo La tua ricerca di artefatti eco Se gli indigeni hanno degli oggetti precursor Sai bene che cosa fare Regolare i conti con chiunque osi allontanarsi dal villaggio Per il resto lo attaccheremo a tempo debito Questo posto mi fa venire i brividi Stupida spazzatura dei precursor Ehi, che cos'è quella robaccia scura? Non promette niente di buono Il saggio ha farneticato qualcosa sui precursor Che avevano costruito questo luogo Dove saranno andati? Perché l'avranno costruito? Ora, se devo dire la verità I globi precursor e le batterie mi piacciono Ma secondo me i precursor erano solo dei perdenti Si è accesa! Come diavolo hai fatto? Oh Jack, credo che siamo nei guai Aiuto! Ragazzi, se brucia! Te l'avevo detto che non dovevamo venire qui Perciò... Che c'è? Ok, ok Va tutto bene Sto bene Dai, era carino Per i tempi, ragazzi Era qualcosa di bellissimo, ragazzi Adesso si può sapere cosa volete da me voi due Ecco, noi eravamo... Cioè, io... No, non dirlo Invece di darmi retta voi due Siete andati a combinare guai Nell'unico posto che vi avevo detto di abitare assolutamente L'isola della nebbia Sì, esatto E poi... E poi, Dexter Ti sei fatto finalmente un bel bagno Ma in una pozza di eco scuro Dove ti sei ridotto così Bene, ora vuoi continuare a charlare O vuoi aiutarmi a risolvere questo casino? Penso che continuerò a charlare Perché a mio parere La trasformazione è un notevole miglioramento E d'altra parte Non potrei aiutarti neanche Se volessi... Cosa? C'è soltanto una persona Che ha studiato l'eco scuro abbastanza a lungo Da poterti far tornare alla tua forma originaria Goal ha che ero nel saggio Ma Goal vive nel lontano nord Nel lontanissimo nord Nessuno gli parla ormai da anni Ti teletrasporterai lì Ma purtroppo non posso farlo Visto che dei tre saggi Che custodiscono i teletrasporti Ormai non siano notizie da tempo immemorabile L'unica altra via è a nord E passa attraverso il canyon di fuoco Ma è un terreno vulcanico Potrebbe fondere anche il metallo precarso Non puoi attraversarlo a piedi Ma potresti tentare di sorvolarlo Se avessi uno zoomer con uno scudo contro il calore Per puro caso io starei lavorando Su un gingillo del genere in questi giorni Mi servirebbero solo 20 batterie Per avere abbastanza energia Da resistere al calore del canyon Vero papà? Certo chi era potrebbe funzionare Ma questo giovane ragazzo È la creatura Dove troveranno 20 batterie? Là al villaggio Molti laggiù hanno una o due batterie Nascoste da qualche parte Anche se loro non saranno dell'idea di scambiarle Mettete nelle loro mani qualche globo precarso E riuscirete a raggirarli E scommetto che ce ne sono molte di più Abbandonate nel deserto In attesa che qualche prode avventuriero Vada a recuperarle Beh ecco finalmente il coraggioso avventuriero Coraggioso avventuriero Voi due non riuscireste a uscire dal villaggio Senza allenamento Prima di fare qualunque altra cosa Fareste meglio ad andare al teletrasporto Per allenarvi sulla roccia del geyser Non è che troveremo ancora Dell'altra brutta robaccia oscura Vero? Non vorrei caderci dentro di nuovo E diventare come te Entrate subito lì Prima che vi trasformi entrambi in feci Ok Signori E adesso si comincia con la zona tutorial Ragazzi non so minimamente come si vede Quelle cose fluttuanti a forma di uovo Sono i globi precursor Raccoglietene abbastanza E gli abitanti del villaggio Li scambieranno con una batteria Ok Prendiamo le uova Ok I comandi non mi sembrano Proprio responsivissimi Ecco una batteria Il manufatto precursor Più importante che si possa trovare Dovete raccogliere 20 batterie Se volete energia sufficiente Ad attivare lo scudo di calore Del vostro zoom in antigravità Ok Prendiamo la batteria Salvataggio dati Eee Fatto Questi cosi mi sembra Che Ok Fatto 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 Vedi che sono bravo Sto già facendo Ok Perfetto Perfetto Già ne abbiamo prese 6 A più questa qua 7 Perfettissimo Uh batteria Tec Siamo già due Wow L'ultima mosca scout Ha trovato una batteria Scommetto che se trovate Tutte le 7 mosche scout Riuscirete a raccimolare Anche altre batterie Uh Questo è l'eco blu E contiene l'energia Del movimento L'eco blu Ti permette di correre Più velocemente Di infrangere casse E di attivare Alcuni manufatti Precursor Avvicinandoci a essi Ah si attiva già su Subito Ok Vai Muoviti Muoviti Ok finito Vai finito l'eco blu Allora premendo start Noi possiamo vedere Quante batterie ci sono Nel livello Bene quindi Per il momento Continuiamo e basta Dobbiamo salire Quindi spacchiamo Questo coso Ah qua mi serve Ok qua mi serve Il L'eco blu Che ovviamente Si trova là Questa è una porta Precursor Può essere aperta Solo avvicinandoti Ad essa Mentre nel tuo corpo Scorre l'eco blu Ok Andiamo a prendere L'eco blu Qui è la fonte dell'eco blu Lì l'eco è più concentrata Che altrove E vi permette Di ottenere Una carica completa E sfruttare Il potere dell'eco Per il massimo Del tempo Ok perfetti Vai corri 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 Bam Attivato Batteria Yes Oh trofeo guadagnato Apriti sesamo L'eco blu ti ha permesso di aprire la porta Grazie all'eco blu potrai convogliare energia In tutti i manufatti precursor Che finora erano rimasti inattivi per anni Ok Quelle piccole sfere verdi sul terreno Sono una varietà di eco Raccogliene 50 piccole Oppure una grande Per incrementare la tua energia Non so questa serie Come la prenderete Non Davvero raga Non lo so È da anni Che non portavo comunque Un gioco vecchio Fatto 50 su 50 Yes C'è l'ultimo Gioco vecchio È stato Spiro 2 C'è cazzarola Quindi Non so raga Fatemelo sapere qui sotto nei commenti Non lo so Non lo so Comunque io credevo Vi ripeto Fosse una remastered Invece è proprio il gioco originale Cioè lo sto facendo su PS4 Per carità Non che mi dispiaccia Però io sono dell'idea Che una remastered Sarebbe stata molto meglio Visto che i controlli Sono un pochettino Macchinosini E andiamo alla capanna Del Saggio Let's Questa è più una zona tutorial Diciamo Giusto per iniziare Ottivo allenamento Ma questo non è nulla In confronto alle sfide Che ancora vi attendono No Non c'è nessun problema Dobbiamo darci una mossa Vero Jack? Ci piacerebbe restare a parlare Con l'omino verde Ma ora Dobbiamo riprendere Le nostre fatiche Bene Bene Allora partite per l'avventura E mentre viaggiate In cerca d'avventura Cercate almeno di rendervi utili Quei raccoglitori di eco verde Si sono intasati di nuovo Andate all'estremità più lontana Della spiaggia E dategli una pulita E ora Tutti quanti Fuori di qui Me lo ricordavo Che lo stavo Citazione Crash Bandicoot Perché questo era Il secondo gioco Della Naughty Dog Se non sbaglio Dopo appunto Crash Bandicoot Per i tempi Questo gioco Era veramente strepitoso Ragazzi assolutamente E ancora oggi Devo dire che Secondo me È davvero un ottimo gioco Comunque parliamo con la signorina Che ne diresti Di fare un giro Su questo zoomer Antigravità Regola numero uno Mai uscire Con animali Peggio per te Non sai cosa ti perdi Eh Buona patelosa Ascolta Se ti serve qualcosa Per occupare il tempo Mio padre Mi ha parlato Più volte di un antichissimo Condotto realizzato Dai precursor Nascosto nel sottosuolo Le tubature Sfociano nei camini Di ventilazione Da alcuni di essi L'eco fuoriesce liberamente Altri sono stati bloccati Dove pure esserci Un modo per riaprire Quei camini Io ho individuato Una parte del condotto Al tempio proibito Magari potresti Cercare laggiù Qualche interruttore Ok Direi assolutamente Di non perderci In barbabietole Ci servono delle batterie Per alimentarli Va bene Le vado a prendere Alla villaggio di Sandover Siamo al villaggio Uh Ovviamente anche qua Ci sono Ci saranno Sette mosche Sembra che le mosche scout Si trovino sempre Nelle scatole rosse Uh ok Parliamo con questo Così ci darà La prima Missione Ecco Allora caro il mio ragazzo Mi cogli in un momento Veramente inopportuno Sai ieri stavo finalmente Per mettermi in viaggio Mi sono reso conto Di essere accolto Di vecchi globi Dei pre-cassi Per mille valere Io avrei giurato Di averne 90 Credo che quel tuo Giovane amico Sì quel Quel tipo Irretante Brutto E miserabile E li abbia appena Arrivati Solo per divertirsi Comunque potresti essere Così gentile Da prestare al tuo vecchio zio 90 globi Dei pre-cassi In modo che possa Mettersi in viaggio In cambio ti offrirei una bella batteria Casualmente Vedite che caso Ci serviva proprio una batteria Ho 50 uova Non ne ho 90 Quindi le dobbiamo Prendere Parliamo pure con Quest'altro signore Salve signore Ma lui cerca la musa Esserino peloso Ha ragione Ho trascorso una parte Della mia infanzia Al monastero Immagino che Freezer ti abbia raccontato Che il pianeta Vegeta È stato distrutto Da un meteorite Mia madre ha detto Che la mia futura moglie Dovrà essere in grado Di sollevare Una grossa cassettiera Come se niente fosse Certo che in piena notte Si muore dal freddo Qui fuori Devo star notire più forte Così loro mi sentono E così hai evocato Una coppia Di insetti Per prendermi alle spalle Esserino peloso 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 Per un attimo Avevo pensato Che fossi la mia musa La tua cosa? Non avete mai visto Una musa prima d'ora È una specie Di scogliatolina luminosa Grande così Piena di coraggio E matta come una cavalla Certo capito Sarebbe una specie Di amicone Se devo dire il vero Senza la mia cara musa Non riesco più A scolpire niente Ma quando lei È qui con me Vedo la bellezza In ogni cosa Sapete Ora invece Non farei di cesello Neanche una scatola Credo sia scappata All'isola della nebbia Spero solo stia bene Vabbè ci sia arrivata Ti darò una batteria Se me la riportate Eh ok Eh un momento Noi Non abbiamo alcuna intenzione Di tornare Sull'isola della nebbia Dico bene? Tanti si chiedono Come quella musa Sia riuscita A finire la Però vabbè Dobbiamo esplorare Tutto pure Uh pure Vedete Pure dietro le cose Bam Ecco Spiaggia delle sentinelle Ok alla fine Di questa spiaggia C'è quella roba Che dovevamo fare Ah tommizzo Ora il pellicano Mi ciulla la batteria Eh lo sapevo Quel dannato pellicano Ha appena preso una batteria Eh l'ho visto Andiamo a dare Una bella battuta Al suo grosso sedere Uh batteria Bam Queste animazioni Ti davano una soddisfazione Incredibile Abbiamo 70 globi Altri 20 E abbiamo ottenuto Già un'altra batteria Prendere queste uova Non è per nulla semplice Le uova sott'acqua Le ho prese Adesso Di solito Dietro la cascata C'è sempre qualcosa Speravo in una batteria Ma ci accontentiamo Ok dai Dobbiamo sbloccare Questi cosi Teoricamente Uh raccoglitori di globi Ma a me piace Sbloccare le robe E rompiamo l'ultimo Ah ah Fatto Batteria Ovviamente Da Ma che figa Che sta cosa Che c'è Un'animazione Diverso ogni volta Possiamo andare di qua Oh yes Che ci possiamo andare Allora prendiamo Le moschie Dov'è la batteria? No dovrebbe esserci Una batteria Teoricamente qua Ah è là E vi Visto E vedi Vedi tu Vedi Saliamo qua E vedi che era qua E stai a vedere Dei gabbiani Perché dovremmo inseguire Dei gabbiani Ma è il senso Di questa cosa E bam Siamo a quota Quattro mosche Alziamo pure questo Uno E dos Fatto E grazie a questo coso Possiamo salire qua Ok Fatto Bam E continuiamo Comunque a esplorare Questa baita Uh Bam Non cadere Non cadere Ok Uh c'è un uovo gigantissimo Uovo Bam Fatto Spacchiamo l'uovo Buon lavoro Ci vediamo giù Vicino all'uovo Ah Salve Santo cielo Speriamo che il caro vetto Stia bene Eccovi una batteria Per ricompensarvi Oh grazie Ok Oh no Guarda Non lo trovi delizioso Crede che tu sia La sua vera mamma Ehi un momento Non sono tua madre Vedi forse qualche fiuma qui Ma è amore a prima vista Ora ascoltate ragazzi Riporterò al villaggio Questo piccolino E me ne prenderò cura Con l'aiuto del saggio Yeah E siamo Un uova strapazzata E trofeo guadagnato A noi ci piace così Otto batterie Intanto qua ci sono Altre uova E un'altra mosca Bam E siamo già Uh sette moschie Siamo a nove batterie Ragazzi Baa Quanto io adoro L'animazione Quando lui lancia La batteria E Dexter La infila Nello zaino Con fuoco Quanto l'adoro Dobbiamo sbloccare L'eco blu Per raggiungere Comunque con la piattaforma E per prendere La batteria del pellicano Va bene Ritorniamo al villaggio E diamo i 90 globi Allo zio Zio Qua ho i globi Vedo che siete tornati Per concludere l'affare Sì Bene bene Molto bene Ehi ma gli avete i globi Dei Precursor Su cui ci siamo accordati Spero che userete In modo intelligente Questa batteria Ve la siate guadagnata Ciao ciao Oh le muore Bye bye Ciao ciao Ma quando fai L'animazione Che la lancia Lui la mette dentro E' molto figa Ok Quello delle mucche Quello delle mucche Allora dovremmo portare Tutte le mucche Dentro il loro recinto Muoviti Facendo questo Lui ci darà La batteria Vai dentro Bravo Devi muoverti Stupido di un coso Parliamo Le miei eco smuncherò Le miei eco smuncherò Oh Sei tu Stavo riposando Le mie stanche ossa E' tutto il giorno Che cerco di far tornare Nel recinto Quelle bestiagge Degli strani esseri Hanno tentato di rubarle Pensi che potresti aiutare Un povero vecchio A riportarle nel recinto Si ne mancano due Entra Andiamo a prendere l'altra A calci in culo Ti prendo Entra dentro Oh Un contadino sfaticato Ci deve una batteria Andiamo a parlargli Bene fatto ragazzo Sei riuscito a far rientrare Quei sacchi di punci Ora posso dormire in pace Come ringraziamento Prendi questa batteria E come ricompensa Mi fai l'animazione Dove la schiaffi dentro Con fuga E invece no Ragazzi ho sbloccato Un casino di achievement Matomi Siamo soltanto al primo episodio Da qua sopra teoricamente Si va al Esatto Al canyon di fuoco Che ovviamente Avete abbastanza batterie Per alimentare il mio scudo termico Non potete attraversare Il canyon del fuoco Finché non trovate 20 batterie Ok Vediamo se Riesco Ok Fatto Bam Mosca Senza cadere Questo deve essere Uno degli oracoli Precursor Di cui parlano sempre i saggi Spero solo che non fossero Veramente così brutti Chi ha svegliato L'oracolo Aspettate Uno di voi Ha in sé la luce Da prima dei tempi Ho cercato E atteso Il ritorno Del vero eroe Portami 120 globi Precursor Per ogni batteria Che contengo 120 globi Che non abbiamo Perché gliel'abbiamo dati Prima 90 a quello Oh qua c'è un altro villaggiero Che non avevo visto prima Oh no Non ditemi che anche voi due Avete qualche problema Prima mi riferiscono Che sono stati avvistati Dei mostri Vicino al villaggio E ora questo Vedete quei congeni La su Li vedete Vedete che non si muovono Significa che il nostro villaggio È rimasto senza energia L'ecoraggio che proviene Dal tempio della giungla È stato interrotto E sapete ragazzi miei Sono tutti troppo spaventati Per andare là A scoprire che cosa è successo Hai pagato la bulletta Oh 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 Ma che sciocchezza Sentite Se voi due riuscite A sistemare l'ecoraggio Io vi darò una batteria Oh 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 Aspettate C'è un'altra cosa Ecco Voglio dire Che se per caso Foste interessati A dare un contributo Alla campagna Per la mia rilezione Io potrei Decidere di separarmi Da un'altra batteria E beh Ecco Il contributo minimo È Modesto Solo 90 globi Precursor Ah ok Va bene Siamo gli 90 globi Tanto ci serve la batteria Un contributo Bene Un contributo consistente Spero Io Oh sì Decisamente Un contributo consistente Vabbè Io spero solo Che questa batteria Esprima Adeguatamente La mia gratitudine Comunque Ieri dovevamo dare Bam Sì Bam Modo migliore Per terminare Il video Di oggi Signore Uh aspetta Ma l'ho notato mo eh Volevi che non la notassi E invece l'ho notata Fatemi Sapere Sotto nei commenti Come vi Può sembrare Questo gioco portato come serie Intanto qua c'è una mosca Bam E l'ho appena notata E siamo già 5 Dove possono essere Questi globi Teoricamente Ah ma lì c'è una mosca Bam Siamo a 6 Ah secondo me Qua sotto Esatto Me lo aspettavo Me lo aspettavo Yes Batteria signori Yes Villaggio di Sandlover Completato Pensavo che questa fosse La zona nuova Invece Diventa zona nuova Più avanti Da qua è che diventa La giungla Vediamo Se premmo start Giungla proibita Ok E infatti ho preso 4 uova Detto ciò signori Se il video di oggi Vi è piaciuto Lasciando un bel pollicione In su Qui sotto al video Nel prossimo episodio Completeremo La giungla E libereremo L'equo all'interno Del villaggio E nulla Noi ci vediamo In un prossimo video Vi voglio bene E ciao 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 Ciao